La città di Sulmona renderà omaggio alla Beata Teresa di Calcutta con una santa messa che sarà celebrata il prossimo 5 settembre alle ore 18 presso la stelle della Croce Rossa dove è collocata la statua. Una celebrazione che farà seguito al grande appuntamento di domenica prossima dove la Beata Teresa di Calcutta sarà canonizzata da Papa Francesco. Già premio Nobel per la pace nel 1979 e fondatrice della congregazione delle missionarie della carità la città di Sulmona spiega il presidente del consiglio comunale Katia di Marzio la vide gradita ospite nel lontano 21 maggio 1987 allo stadio Pallozzi a cui fece seguito il conferimento della cittadinanza onoraria e vuole ora ricordare quel forte legame estaurato allora e rafforzarlo successivamente con l'inaugurazione il 5 settembre 2008 della statua di madre Teresa di Calcutta in via Gennario Sardi presso la sede della Croce Rossa italiana grazie all'interesse e proficuo lavoro del comitato organizzatore preseduto da Antonio Ruffini d'Insieme per il Centro Abruzzo con la collaborazione di diverse associazioni e con la realizzazione della scultura da parte dell'artista sulmonese Umberto Malvestuto appuntamento al prossimo 5 settembre alle ore 18 Malvestuto appuntamento al prossimo 5 settembre alle ore 18 Malvestuto appuntamento al prossimo 5 settembre alle ore 18 Malvestuto appuntamento al prossimo 5 settembre alle ore 18 Malvestuto appuntamento al prossimo 5 settembre alle ore 18